Ciao, appassionati tifosi della Lazio, ho una notizia esclusiva che sicuramente vi interesserà. Secondo quanto riportato dal messaggero, Angelo Fabiani ha dato il via alle prime mosse di mercato della Lazio per l'estate prossima. Preparatevi perché la nostra difesa sta per ricevere un rinforzo di peso. Stiamo parlando dell'arrivo, previsto per giugno, del terzino Emanuele Valeri, originario di Cremona. Valeri, attualmente in prestito al Frosinone, ha sempre dimostrato un grande amore per la nostra squadra, e ora sembra che avrà l'opportunità di indossare definitivamente la nostra maglia. L'accordo è quasi concluso, un contratto triennale è in procinto di essere firmato per Valeri, con opzione per un quarto anno. E la cosa migliore, verrebbe a parametro zero per la Lazio. Inoltre, lo stipendio sarebbe di circa un milione di euro a stagione. Questa notizia è davvero entusiasmante, non trovate? Immaginate di avere un giocatore così impegnato e talentuoso a rinforzare la nostra difesa. Sicuramente sarebbe una pedina fondamentale per le nostre prossime sfide. E voi, tifosi, cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Pensate che Emanuele Valeri possa distinguersi con la maglia bianco celeste? Fateci sapere le vostre aspettative nei commenti qui sotto e tifiamo insieme per la Lazio. E non dimenticatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere alcuna novità sulla nostra amata squadra. La stagione si preannuncia emozionante e saremo qui ad accompagnarvi ad ogni passo. Forza Lazio!